Capolista di Fratelli d'Italia, candidato più votato di Giorgia Meloni, è arrivato in Consiglio Comunale, abbiamo pure una clip caro Vittorio, vediamo la immagine di te che entri, abbiamo parlato, 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 è successo, guardate. Io non so cosa sia l'emozione, mi emoziono solo davanti a una bella ragazza. Ho una vita che dimostra, anche tutta la mia attività giornalistica, che dimostra che io non sono mai stato favorevole ai titolari. totalitarismi, specialmente quelli comunisti, ma non è che quelli fascisti e nazisti mi piacessero, non l'ho mai detto. E quindi che stupidarsi, siamo qui ancora a romperci le palle con l'antifascismo, con l'antitotalitarismo, per favore. Non andrei mai a rinchiudermi come detenuto all'Aquidinale, in secondo luogo non si guarda è un cazzo e quindi la cosa non mi emoziona molto, a parte che è irreale la cosa, però se fosse anche reale io non accetterei.